Musica Ah hi people of youtube, welcome to a new episode of Madagascar 3 A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata Lo so ragazzi, questo episodio doveva arrivare la scorsa settimana Ma come potete sentire da questa clip? Ah hi people of youtube, welcome to a new episode of Madagascar 3 Questo è quello che avreste sentito con il vecchio microfono Che purtroppo ci ha abbandonato E questo è il primo video che registriamo con il microfono nuovo Quindi non perdiamoci oltre e iniziamo subito la partita Come potete vedere avevo già un salvataggio ovviamente Che era quello che avevo iniziato Beh, tanti saluti Iniziamo un nuovo salvataggio E avventuriamoci nel mondo del circo Ma come saltè l'Alex? Allora qui abbiamo le impostazioni No non è vero, gli extra Con i trofei, le promozioni e riconoscimenti I profili che sono i salvataggi La modalità circo Immagino siano i minigiochi La modalità missioni Che penso ritorna nei vari mondi E rifai le cose mancanti Non lo so E la modalità storia Che è ciò che a noi interessa Dio mio come sono scontornati male Come sono scontornati male Ma che belle fotografie Dai Ma i doppiatori sono quelli originali stavolta Mi sa La scimmia mi sa che è la sua Ah quindi la parte iniziale Già l'abbiamo tagliata Cioè Questo ha già tagliato La parte iniziale del film Sto sperando che li riportassi a New York Purtroppo il piano non ha funzionato Ehi, l'an Scimmia Sì, sì, sì Il doppiatore è quello giusto di Julian Non vorranno nemmeno iniziare a giocare a questo gioco Se non la smetti di blaterare Ti spiace? Julian stai zitto Sei antipatico Forse per me è un piacere Quello che questo primate noioso e peloso Stava cercando di dire È che il vecchio circo Per il quale avevano sborsato un sacco di soldi era Ebbè certo, no? Succede ogni volta, vedi tu? E sei finalmente quello con la voce giusta Comunque I modelli 3D questa volta sono migliori rispetto al 2 Cioè Julian non è sfocato Non è uno sgorbio E almeno la qualità sembra anche buona Fine Veramente Non è la fine Sì, guarda, sono contento che la scimmia è l'unico Che gli riesce a rispondere in faccia veramente Che avevo già raccontato tutto Eh, certo, no? È esatto Oh, sono un cretino Guarda come vola Mamma mia Proprio stupido E sono contento che la scimmia è l'unico che riesce a tenergli testa Oh, finalmente Ma quindi Allora, questa cosa che non ho capita Abbiamo tagliato il pezzo iniziale del film In teoria E stiamo rivivendo tutte quante le tappe Da quel pezzo iniziale tagliato Fino alla fine Non lo so Scopriamolo adesso Ok Sì, sì, sì Il doppiatore del pinguino è quello Perfetto Vi mostrerà dove si trova la cosa che mi serve E il punto di partenza Per prendere queste cose Dovrete aiutarvi l'uno con l'altro Faremo una prova Ah, ok Gloria, Marty, voi siete i primi Andate nel punto segnato sulla mappa Giochiamo con due personaggi Questa cosa è interessante, devo dire E quindi i personaggi li scelgono loro all'inizio Ok, vedete quel fascio di luce puntato verso il cielo? Ahà Il vostro obiettivo è lì Arrivarci da qui è difficile Ma penso che possiate farcela Possiamo volare Bene Come entrarci? Gloria, salta in quel pozzo Vai, buttati in acqua Come faccio a cambiare con Gloria? Con L1 e R1 Premi X per saltare nel pozzo se necessario Cambia personaggio Ok, Gloria non ha più L'attacco culo con doppia X Con quadrato ci mettiamo un paio di occhiali Che immagino ci serva per mimetizzarci con gli umani Aspetta, togli quella roba per favore Con cerchio Facciamo Un colpo di culo E con triangolo non facciamo niente Ok, sì, va bene Mi butto Mi butto in acqua Mamma mia Che pesante Ok Gloria Puoi nuotare in avanti premendo il tasto salta Certo Puoi far scoppiare le bolle sott'acqua premendo il tasto agisci Ok, bolla raggio quindi Puoi scoppiare le bolle sotto la botte per toglierla di mezzo Va bene Faccio tutto quello che mi hai detto Ok Il nuoto è più facile rispetto a quello del 2 Almeno quello E possiamo spammare bolla raggio come sempre Anche se questa volta si vede che Gloria ha livellato Gloria ha livellato perché le bolle Prima erano piccole così Adesso sono grosse quanto a lei Hanno funzionato tutte quelle caramelle rare allora No, comunque graficamente è decisamente molto meglio Sotto tutti i punti di vista Ok, sì, ho capito Ho capito, fammelo fare Interagisci, interagisci, interagisci Ho capito, tieni Ho interagito, va bene? Vedrete i comandi sullo schermo all'occorrenza Ok, almeno me lo segni, dai Almeno quello Colpo di culo Ah no Ah, colpisci con forza Puoi salirci su per arrivare lassù Puoi salirci su per salire lassù, certo Guarda Più semplice di così Si muore soltanto E ora Tocca a Martino Ecco fatto Mettiti gli occhiali Che non si sa mai Sembri un VIP, Marty Ehi, ciao Vuoi un autografo? Il circo è in città Sì, è in città Pietro Ubaldi, sei tu? Mi sembrava molto Una voce familiare Ma la voce di Marty Solo una considerazione personale È il doppiatore di Oh cazzo, com'è che si chiama? È il doppiatore di shorty Di... Degli scary movie Scusa Cerco di togliermi il pizzo Ah 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 Oddio Bellissimo scary movie Va bene Accetto Marty con questa voce Quindi Fino ad ora I personaggi secondari Hanno una voce La loro voce originale Mentre i personaggi Principali I protagonisti Hanno dei doppiatori diversi Ma due su quattro Ma immagino che anche gli altri due Perché Gloria Era Michel Hunziker Marty era Era Franz di Ale Franz Melman Era Fabio De Luigi E Alex era appunto Ale di Ale Franz Ora tocca a Marty Sì, l'avevo immaginato Per saltare in lungo Ovviamente Ok, interagiamo con la rampa Wow Ok, ascoltate Neanche l'impegno di Di fare un'azione Cioè alla fine Ha fatto tutto lui sul posto Ma Mi spieghi Come un bambino Va bene Sì, è per bambini Ma Come dovrebbe Un bambino Sbagliare quel coso lì Di aspettare che la X Arriva nel punto giallo Oh, magari sono io Magari sono io Che La penso troppo difficile Che io vorrei Che fosse un po' più difficile Magari Ma È un gioco per bambini Ci sta Interagirci per lanciarti Rigatone Cosa sono? Un pezzo di pasta Dai Ecco qua Come faccio a interagirci? Col cerchio Ecco qui Non voglio sollevare un polverone No, 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 no Il polverone Tu te lo fumi Credimi Il doppiatore È quello che se li fuma E ora tocca a Gloria Posso tirarlo giù? Certo che posso tirarlo giù Ti giuro che vorrei provare A sbagliare Per vedere cosa succede Probabilmente mi dice Riprova Sicuramente Proseguiamo la nostra Bella camminata In questa direzione Verso il filo Interagisci per salirci Ma va? Ma davvero? Un'altra sinistra Per stare in equilibrio Ok Ah Aspetta che con la telecamera Se non lo metti dritto È un po' difficile Interagire Presta e buona Gloria Di qua Brava panciottina Eccoci qua Sono arrivato E ora Morse Odio Aspetta che voglio Più che una trombetta Sembra una puzzetta Sembra una puzzetta Hai capito Ora torna da me Arrivo Però i personaggi Sono così lenti In questo capitolo Guarda con che lentezza Camminano Poi non posso fare Neanche più la rotolata Che era praticamente La mossa di Sonic Per andare veloce Eccomi qua Missione compiuta Bel lavoro ragazzi Ora tocca Ad Alex e a Melman Ovviamente Cos'è una partita di calcio Guarda come sono scontornati male Che fastidio Tagliati proprio con la forbice E incollati sopra E scegliamo Alex Bene Vedete il pascio di luce Sì lo vedo Ma va davvero Ok Saltellano tutti In questo gioco Ok Alex Ha ancora Il doppio salto Col quadrato Continuiamo A Metterci gli occhiali E abbiamo Un rugito Che Oh ti dirò Ti dirò È fatto bene Il modello Le animazioni È sicuramente Migliorato Rispetto Cioè guardalo Guardalo È sicuramente Migliorato Sotto Tutti gli aspetti Rispetto al 2 Sotto tutti gli aspetti È veramente migliorato Guarda Sono contento Sono contento Per loro Melman Cosa stavi facendo Ti stavi guardando il culo Mettiamoci gli occhiali E andiamo qui Al fascio di luce Le cose saranno Più facili Se non spaventate I sapiens E non vi fate notare Dagli accalappiatori Ebbè certo Il tasto travestiti Per camuffarti Il tasto travestiti Il tasto quadrato Ebbè certo Come se già andassimo Veloci Già Anche senza gli occhiali Già andiamo così Con gli occhiali Andiamo così State alla larga Da loro per un po' E si calmeranno Ah come un GTA Ok andiamo Mimetizzati Saltellando Tanto la gente Non noterà Un leone Con un paio Di occhiali No 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 Gli occhiali Ci travestono Hanno imparato Da Smallville Loro a Anzi da Smallville Da Superman A nascondersi Alex puoi fare Una capriola Premendo il tasto Salta una seconda Un doppio salto Più che una capriola Perfetto Sì signore Sono già ad Alex Tranquillo Ok Melman Vedi quella manovella Interagisci con essa Intanto quei due Che Guarda che si sono scontrati Guarda Guarda che ne è arrivato Un terzo Aspetta No si sono spostati Si erano incastrati Tre Sapiens Così Ok aspetta Allora 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 Dov'è che devo arrivare Di là Perfetto Passiamo A Melman Ma allora Io voglio Ancora ancora Capire veramente La concezione mentale Ma magari anche nel film Perché io il terzo film Non me lo ricordo Voglio capire La concezione mentale Degli umani Ok va bene Un ippopotame Un E un leone Con gli occhiali Perché Sai Cammina uno studio gambe Puoi ancora ancora Crederci Voglio accettare La zebra Che cammina A quattro zampe Con un paio di occhiali E non ci fai caso Ma Come fai a non riconoscere Una giraffa Alta Quattro metri Con un paio di occhiali Come cacchio Fai a non riconoscerla Guarda Forse sono io Che penso troppo Scusami Saltare Ti fa Togliere gli occhiali Melman C'hai ragione anche tu Scusatemi Scusatemi Sono un normalissimo Umano Mamma mia Vabbè ma qua è colpa mia Che penso troppo Ecco fatto Facile Come girare una manopola Saltarci su E salire lassù Saltarci su E salire lassù Certo Come No vabbè Dai non lo voglio dire Stavo per fare una battuta Orribile Sul secondo titolo Ma Me la evito Dai Bambino Che ci fai qua Vai via Questo è un posto per le giraffe Eccoci qua Melman tra la No Allora a parte che è schifo Letteralmente Ma L'attacco di Mel Melman a parte che non fa più l'elicottero E vabbè questo è abbastanza reale Ma l'attacco di Melman Non è più la testata O la rotolata Ma ha uno starnuto bagnato Va bene Sì Guarda Lo accetto Lo accetto volentieri Tra l'altro L'illontananza Vedo Due bandiere E un'asta Penso sia la zona Dove ci alleniamo A camminare Tipo sui fili Quelle cose lì nel circo Passiamo ad Alex Cosa stavi facendo Alex Cosa stavi facendo Mentre non guardavo Scusami Comunque Dobbiamo atterrare sulle cose piccole Dai Ma che cazzo Lo stavo facendo se me lo lasciavi fare Premi il tasto salta al momento giusto per lanciarti Sì grazie Se mi hai fatto Ah ok Non sono caduto Scusami Alex Perché Sei un felino Va bene che stai sulle cose piccole Ma perché devi fare questo Non lo so Guarda Tra l'altro Devo dondolarmi io o fa da solo Fa da solo Ok Uno Due E tre Ecco fatto E' stato facile Cimicianga Ci sono i piccioni Cimicianga Alex Puoi rugire e spaventarli Utilizzando il tasto agis Melman Puoi starnutire e spaventarli Con il tasto agis Ma allora Capisco i piccioni Che si spaventano Per il rugito Ma Perché i piccioni Dovrebbero farsi il problema Se Se tu starnutisci Cioè magari per il rumore Per carità Però dai Abbiamo appena starnutito Addosso a un paio di piccioni Abbiamo appena starnutito Addosso a dei piccioni Può andare meglio di così La mia giornata Credo proprio di no Dopo aver visto una Una giraffa Starnutire Su dei piccioni Penso che nulla ormai Mi possa più sorprendere E sai cosa ti dico Va bene così Perché tendi a picchiare le zampe Molto forte Quando starnutisci Melman Prova a sfruttarlo Per abbattere quel camino No Stiamo Per rompere un camino Di cemento e mattoni Semplicemente Zoccolandogli addosso Perché Perché Cioè Con la potenza dello starnuto Abbiamo distrutto Un camino Porca troia Sì Questa sì Che è la magia Oh comunque L'Italia La refigurano sempre bene Sempre in mezzo al verde In mezzo alle montagne Paesini Minuscoli Va bene Guarda lo accetto Completiamo la missione Guarda Posso solo dire Che sono contento Che l'abbiano migliorato Passione Passione ies